Sì, arriviamo da una partita complicata contro una delle due squadre sicuramente più forti del campionato. Ne usciamo con onore, nel senso che ci portiamo dietro le cose buone che abbiamo fatto ed è un'occasione per migliorare. Ora abbiamo una grande partita di fronte a noi. D'Artone è una squadra, ormai una solida realtà del nostro campionato, quindi siamo molto motivati e soprattutto avremo sicuramente una grande spinta dal nostro pubblico che accorrerà numeroso. Ma credo che essere vicini a questo primo grande obiettivo ci dà un'extra motivazione. Penso che fare le finalizie ha un grande traguardo per la società, per noi come squadra, perché è veramente una manifestazione splendida. Ormai è troppo tempo che non ci siamo, quindi abbiamo grande voglia di ritornarci. Questa sarà il primo matchball, se così lo vogliamo chiamare. Quindi assolutamente dobbiamo conquistare in casa questo accesso e sarà una partita difficile ovviamente. Loro sono una grandissima squadra, molto fisica, esperta, con tanti giocatori esperti, ben allenata. Quindi veramente sarà una bella partita e speriamo di portare a casa il risultato. Tyler è un grande compagno di squadra, è stato con noi due anni, lo abbiamo combattuto fianco a fianco. Un grande compagno di squadra, dentro e fuori dal campo. Sarà bello riabbracciarlo prima della partita, dopo saremo avversari per i 40 minuti. Però sono sicuro che, come sempre, verrà applaudito dal nostro pubblico per quello che ha fatto qui a Varese. Grazie a tutti.